Il nostro Motoclub Alba partecipa, unito e comparto a questa prima messa dedicata a Guido Bottino, in questo saguario che lui amava tanto, l'uomo di preghiere e trovo di tutti i motociclisti. Guido era un uomo conosciutissimo, sia sul suo lavoro che nell'abito motociclistico, anzi, qui oserei dire che lo aveva a 360 gradi, a partire da Roma fino a Piemonte, lo conoscevano tutti, per la sua capacità di aggregare e tenere insieme persone di centro sociale ed età diversa e sempre tutti insieme. Parlare di lui ci vorrebbe una vita, chi di noi soci e l'uomo non ha un ricordo, un episodio, una battuta da ricordare più di un'altra. È solo che Guido era Guido e per 45 anni non ha perso una stagione motociclistica, sempre in moto, sempre con noi, anche la scorsa, l'ultima, che ha fatto fino all'ultimo motogiro, sempre insieme. Poi quest'inverno, questo maledetto virus, ce l'ha portato via in modo veloce e negli anni. E allora penso che stare qui tutti insieme adesso a pregare da lui sia l'unica cosa giusta da fare tutti insieme. Ciao Guido. Guido, Presidente, amico e padre per me e tutti noi. Sempre il primo, sempre il quale sia per me vicino e lontano. Lui vedeva, lui capiva e poi con la sua abilità sistemava, aggregava e ricompattava tutto e tutti. Caro Guido, fino a ieri sei stata la nostra guida. Ora sei il nostro fatto che illumina sempre la strada del ricordo. Guido, ogni volta che saliamo sulle nostre moto, tu sei accanto a noi e nei nostri cuori. Ciao Guido. Grazie a tutti. Grazie a tutti.